Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Sarà Sergio Pomponio, ex capo di gabinetto della prefettura di Venezia e attuale vice prefetto vicario di Pavia, a guidare Voghera sino al ballottaggio tra Carlo Barbieri e Pierezzo Ghezzi. Ed è proprio quest'ultimo a dirsi soddisfatto per un iter che si è concluso positivamente, proprio come aveva voluto il Tar. Pomponio è una figura di grande esperienza, dice Ghezzi a JAPTV, che ha avuto modo di conoscere durante la giornata del riconteggio dei voti, apprezzando nell'alta competenza. Pomponio avrà la totale collaborazione del Partito Democratico della lista civica, assicura il candidato sindaco di centrosinistra, che ribadisce la volontà di accorciare i tempi e tornare al più presto alle urne. Resta, come è noto, l'incognita del ricorso di Barbieri al Consiglio di Stato. L'organismo di appello dovrebbe esprimersi entro 20 giorni e nel caso dovesse accogliere l'istanza del primo cittadino ormai sospeso, il commissario Pomponio verrebbe sollevato dall'incarico, mentre Barbieri tornerebbe ad indossare la fascia da sindaco in attesa, presumibilmente, del nuovo ballottaggio. Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. A presto.japtv.it